Rugby viadana camp, estate 2013 da vivere a tutto rugby, non aspettare, gioca le tue carte dal 30 giugno al 13 luglio. Gugno al 14 luglio. Gugno al 14 luglio. Il camp ritorna potenziato, rinnovato, con uno staff prestigioso ed internazionale. Rugby viadana camp, i tuoi sogni ovali diventano realtà.